La carenza di personale all'interno dell'Ulss 7 Pedemontana è ben nota e il recente bando per chirurghi vascolari andato deserto è solo un esempio di questa situazione. Ora arriva l'allarme anche per la carenza di tecnici di laboratorio, professionisti essenziali per i laboratori di analisi, l'anatomia patologica e i centri trasfusionali. A lanciare questo allarme la Cisla di Vicenza. Si tratta dell'ennesima carenza di personale all'interno questa volta dei laboratori e quindi dei tecnici di laboratorio sia del centro trasfusionale che comunque proprio della figura stessa. Purtroppo questa non è affatto una novità anzi. Non è un dato nuovo in quanto è oltre un anno che cerchiamo soluzioni per gestire questa carenza di figure professionali. Si tratta di una carenza comunque diffusa che però sembra avere una ricaduta particolarmente grave sull'azienda sanitaria Pedemontana. Sull'Ulss 7 in maniera particolare si rischia di non poter più gestire le reperibilità notturne festive di questa figura che è molto importante. I tecnici hanno come stella polare il mantenimento della qualità del servizio nei confronti dei cittadini ma la coperta è corta, troppo corta. Dopo un anno di salti di riposo, cambio turni, trasferimenti da un ospedale all'altro, la situazione deve essere presa in considerazione seriamente. Voi cosa chiedete come Cisla? Come Cisla chiediamo che si intervenga sia sulle università per l'apertura di corsi anche a Vicenza che permettano ai giovani di iscriversi su queste professioni sanitarie che nessuno vuole più fare. Chiediamo all'Ulss 7 di tenere aperti bandi continuativi per reperire personale anche non della provincia perché la maggior parte comunque è personale che viene dal sud Italia e magari offrendo a loro anche delle possibilità di residenze in loco che sono uno degli altri problemi.